Almeno una dose di vaccino a tutti gli italiani entro la fine dell'estate è l'obiettivo fissato dal ministro della salute e speranza che annuncia il superamento della quota di 50 milioni di somministrazioni ed il crollo del più del 90% dei ricoverati. Il Green Pass è stato già scaricato da circa 14 milioni di persone, ma il sottosegretario Sileri ha riferito che è verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il certificato, rilasciandolo solo dopo il richiamo. Grazie